Io sono il Sergente Maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. Sarete solo pezzi in formi di materia organica anfibia comunemente detta merda! Datti subito una regolata, amico mio! Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa e ti faccio scoppare mia sorella! Ah! Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna! Ti cancelleremo dalla faccia della Terra!